Era Roland e adesso il tempo è con la Vanoli Braga, ultimo minuto dell'overtime ha iniziato in questo momento con il palleggio di Foster, vediamo se sarà ancora lui a prendersi un tiro come in precedenza, lo spazio è quello, il tiro è quello, il risultato è quello, la tripla di Foster più 5 Cremona. Devo commentare una roba del genere? Ma non lo so, perché se devo commentare una roba del genere cercando di razionalizzarla è impossibile, posso ispirarmi a Leopardi o a Montalep, cosa vuoi dire? Vado o non vado? Aspetta che prendo un tiro che è in condizioni normali, cioè sullo 0-0 al 25%, lo prendo dopo 50 minuti sul 91-93.